ora passiamo al montaggio del supporto per il midland quindi il sistema rcf per quanto riguarda gli auricolari e il microfono questo è un kit supplementare che viene fornito se acquistate appunto la scatola per il kit supplementare ovvero questa questa è la scatola per il kit supplementare dove vi verranno forniti tutti questi accessori che servono sostanzialmente a montare il tutto abbiamo i due auricolari abbiamo degli adattatori adesivi col velcro per i caschi che non hanno già la predisposizione abbiamo degli spessori per avvicinare all'orecchio nel caso fossero troppo lontani dopodiché abbiamo sia il microfono a filo che è per i caschi come in questo caso integrali oppure quella bacchetta che è quello per gli apribili o i caschi jet per concludere questo sistema che il sistema a clip ora vi faccio vedere che io l'avevo già inserito e il sistema a biadesivo che va applicato sulla scocca qual è la differenza sostanzialmente questo è più comodo perché potete infilarlo e sfilarlo quando volete senza andare a incollare nulla sul casco mentre questo dà la possibilità soprattutto nei caschi dove non c'è possibilità di utilizzare la clip di inserirlo faccio l'esempio di questo ls2 explorer se io volessi montarlo allora a parte questa zona non è possibile perché abbiamo questa presa d'aria per cui non è possibile inserirlo o lo vado a montare in questa zona per cui se volessi montarlo in questa zona devo innanzitutto fare attenzione a questo sistema che è il sistema di scorrimento della visiera scura interna per cui questo è il punto di battuta e o vado in questo caso con il biadesivo in questo punto spot un po meglio perché perché la clip in questa zona con tutto questo spessore che c'è non riuscirebbe a passare come potete vedere più piccola qui c'è proprio una l con la guarnizione per cui non potrei nel caso lo voleste montare davanti qui così perché vi è più comodo poi dopo considerate che il sistema di aggancio andrà incastrato su a questo basetta e questi sono i fili per cui i fili devono esattamente arrivare non oltre questo punto quindi in battuta perché altrimenti come potete vedere vi andrà a precludere il fatto di utilizzare appieno la visiera questo è l'unico punto da qui in avanti accessibile senza esagerare se lo volete sostanzialmente in questa posizione io lo preferisco sembrerà strano ma averlo nella posizione più arretrata per due motivi uno perché tanto ci arrivo lo stesso anche se qui e qui non mi cambia niente sulla funzionalità nelle me x explorer un altro vantaggio che posso come avete già visto prima inserire qui così la clip proprio c'è uno spazio che va preciso preciso e quindi da qui non si muoverà più altro vantaggio è il passaggio cavi perché in questa zona cerco di farvelo vedere meglio io qui ho l'invito per poi entrare dentro nella struttura della diciamo dei cuscini del casco e quindi avvantaggiarmi mentre se fossi qui avrei la necessità smontando tutto di passare dentro qui e sfilarmi dentro è infattibile entrambe le cose perché anche questo è un passaggio e nel limite possiamo anche incidere per far passare meglio i cavi e non disturbare la chiusura della guanciale ma qui io lo trovo migliore per cui bisogna smontare i guanciali almeno questo qua che è quello dove passeranno microfono e auricolare di sinistra e poi dopo sfrutteremo invece svitando questi semplici tre bottoni poi dopo vi faccio vedere come si rimettono sfrutteremo il posizionamento per il secondo auricolare che è quello di destra cos'è questo cavetto nero sostanzialmente è un'antenna anche perché ricordatevi che i caschi in carbonio schermano i segnali per cui avere un interfono annegato dentro la struttura del carbonio non serve quindi adesso iniziamo la procedura per l'inserimento del sistema io qui potrei già avvantaggiarmi perché non devo aspettare di trovare la posizione giusta poi andare a incollare il supporto e quant'altro quando ho montato tutto per essere sicuro di essere centrato ma posso già iniziare a inserire il supporto è semplice basta adagiarlo sui due piedini che saranno ad invito e poi lo vado a spingere all'interno quindi una volta inseriti sono questi due dentini sostanzialmente ve li evidenzio con questa chiave uno uno due sono i due dentini che vanno a fare l'invito il mio sistema come potete vedere è ben collegato adesso devo solo fare entrare all'interno del casco questo questo gruppo di fili e poi da qui me li vado a gestire per esempio noi qui abbiamo due fili corti e uno lungo quello lungo e questo qua nero andranno dall'altra parte e quindi li teniamo da parte cerchiamo anche di averli puliti e sbrogliati questi due che sono uno l'auricolare e l'altro il microfono per capirlo basta guardare questi quindi questo è il microfono o comunque prendiamo anche il microfono e vedrete che il jack è quello che va a inserirsi all'interno del microfono perché come potete vedere abbiamo maschio e femmina mentre le cuffie sono di un altro tipo di connettore come questo appunto vado a tranquillamente a inserirlo e poi lo vado a posizionare per cui seguite i due segnetti che è fissato a questo punto io aprendo il chiasco posso anche evitare di usare i guanciali posso anche tirare via giusto per semplicità d'uso lo vado ad affogare all'interno e decido di fare il percorso che mi interessa per cui io dovrò arrivare qua tiro via il velcro perché ne ho già predisposto uno vado qui lo vado ad attaccare qui nel mio punto centrale dove c'è il microfono e vado a sistemarlo all'interno in modo tale che non mi dia fastidio vedete qua ad esempio che abbiamo un foro possiamo sfruttarlo per mettere il connettore in modo tale che non vada poi dopo a dare fastidio soprattutto al guanciale per cui io prendo questo lo giro qua dentro e lo abbiamo affogato all'interno poi dopo col cuscino una volta inserito il cuscino andrà in posizione non ci darà fastidio per quanto riguarda invece la cuffia dobbiamo ricordarci che deve essere posizionata esattamente dove c'è l'orecchio ok quindi in questo caso l'orecchio è in questa posizione allora troviamo la posizione andiamo a prendere uno di questi due auricolari tanto sono identici lo vado a posizionare dove deve essere questo è tutto velcro per cui non mi dà fastidio dove deve essere l'orecchio e lo vado a provare ricordatevi un consiglio prima di fare questa operazione eventualmente studiate esattamente dove avete l'orecchio perché se non sono posizionati giusti si potranno poi muovere di qualche centimetro potrebbero darvi fastidio una volta fatto questo io vado a intercettare come abbiamo detto il filo più corto delle cuffie vado sempre seguendo i due puntini lo vado ad agganciare e lo vado anche questo posizionare magari internamente qua dove c'è sempre questo foro in modo tale che io posso inserire il filo senza farmi diciamo spessore o darmi fastidio detto questo visto che poi andremo dall'altra parte possiamo già pensare di rimontare il guanciale quindi il guanciale va inserito qui dentro andiamo inserire anche le basi quindi questo perimetro in modo tale che io sto lontano da quello che è l'inserimento nel diciamo nella guarnizione ed è in questo modo io l'ho già chiuso come potete vedere io dovrò solo andare a chiudere apriamo la visiera a chiudere i bottoni che sono posizionati qua per avere la mia il mio cuscino completamente inserito non è facile farvi vedere tutto a favore di camera però dovreste aver capito come sono inseriti uno e anche in questo caso andiamo sul bottone e inseriamo il secondo perfetto primo lato fatto adesso non ci resta altro che andare sul secondo il secondo lato molto semplice sfruttiamo dato che non fanno spessore i fili non danno fastidio entriamo all'interno della parte diciamo della nuca quindi e poi vado subito a riabbottonare quello che è il mio interno questo se volete potete portarlo avanti nell'imbottitura qua dentro questo qua nero oppure possiamo anche in questo punto girarlo qua dentro e entrare nella guarnizione tanto qua non ci darà fastidio e di sicuro non si vedrà abbiamo inserito prendiamo la seconda cuffia anche in questo caso la andiamo ad agganciare ecco fatto molto più semplice di prima perché qua non c'è bisogno di smontare nulla per il microfono vado inserirlo per esempio qui così una volta che l'avete inserito che è diciamo la parte migliore prendiamo questo filo e lo andiamo a fogare all'interno dell'imbottitura perché senza fare nodi o quant'altro ma tenendolo molto lineare in modo tale che non dia fastidio nella calzata il nostro sistema adesso è pronto abbiamo solo la necessità di inserire calzarlo e vedere se va tutto bene bene bene